Messa di Natale per il reparto di neonatologia dell'ospedale di Ragusa. La Santa Messa è stata celebrata il 20 dicembre alle ore 17 presso l'ex nefrologia nello stesso piano del reparto di neonatologia, preseduta dal Vescovo di Ragusa, Monsignor Paolo Urso. La Messa è un appuntamento fisso per il reparto e sono stati invitati a partecipare le famiglie dei bambini che sono ricoverati o che sono stati ricoverati, oltre agli operatori sanitari e al primario. Quest'anno, spiega il presidente dell'associazione Nati per Vivere, Giuseppe Giordanella, la Messa rappresenta un evento ancora più importante sia per la presenza del Vescovo sia perché sono invitati a partecipare le famiglie che da tutte le parti della Sicilia sono passate dal reparto per i loro bambini. Inoltre, dopo la Messa, è stata presentata ufficialmente l'associazione Nati per Vivere. Nata, spiega Giordanella, per garantire un sostegno materiale e psicologico alle famiglie dei neonati nati con patologie o che si trovano in difficoltà o che sono nati pretermine, oltre che per supportare il reparto con l'acquisto di moderne attrezzature e la sensibilizzazione alle problematiche dei neonati. Un'iniziativa che parte da questa settimana e che durerà per tutto il 2013 è l'acquisto di un'attrezzatura modernissima per l'ipotermia. Grazie a tutti.